Musica Al Paul Ricard la FMP riparte con il botto In F1 c'è il ritorno di Drank che con una gara chirurgica fa bottino pieno Balzando in testa alla middle season In F2 i movimenti di mercato Ferrari producono il grande effetto ed è super doppietta Ora il Circus fa visita nell'arena dei Tori Rossi 4.318 metri, 10 curve, tanta adrenalina Da Red Bull Ring di Spielberg Gran premio d'Austria Lunedì la F1 Martedì la F2 Ore 22.30 Solo su FMP Channel Fr女 große Arena D E Sip E D E E Grazie a tutti